Con il taglio del nastro del nuovo centro integrato di servizi per la famiglia Domenico Riciconti inizia ad atri la vita del terzo punto di ascolto gestito dalla associazione Il Sentiero dopo quelli in funzione a Silvio e Pineto. Una casa per le famiglie è un luogo dove accogliere ed ascoltare problematiche di natura sociale e familiare, questo sottolinea il presidente della ASP2 Roberto Prosperi. Il centro per la famiglia è un centro integrato, vuol dire che noi perseguiamo l'integrazione attraverso la messa in comune di servizi e di professionalità da parte delle pubbliche istituzioni e del privato sociale. Nell'ambito di questi servizi che noi mettiamo in campo l'accesso sarà attraverso un punto unico per agevolare questo tipo di approccio. Il progetto è stato possibile grazie al finanziamento da oltre 500 mila euro della Fondazione Tercas che sottolinea con la presidente come il centro Riciconti sia solo un tassello di un progetto più ampio dedicato al sociale. È un progetto al quale la Fondazione ha creduto molto negli anni e che è giustamente un tassello perché noi ci auguriamo che svolga la sua attività su tutto il territorio e consenta di essere replicato eventualmente. La sede del centro Riciconti è in pieno centro storico ad Atri e contribuisce a rivitalizzare il borgo della città ducale. È proprio a ridosso della piazza d'Acquaviva, Duchi d'Acquaviva, sede dell'amministrazione comunale, la sede del comune. È in pieno centro storico, in una delle zone più belle. Atri ha tutto il centro storico molto bello, questa è una zona particolarmente bella, ridavita a dei centri storici che altrimenti causa maltempo, causa spopolamento demografico, quasi indotto perché insomma il lavoro purtroppo c'è sempre meno. Credo che questo sia un passo importante verso una riqualificazione, una rivitalizzazione del nostro bellissimo centro storico.